Grazie Presidente. Allora, forse io non mi sono spiegata bene prima quando ho parlato, perché io ho sentito la consigliera di Biase parlare di politica sana ed amministrazione sana, ma io non ho assolutamente fatto notare nient'altro che il fatto che uno strumento per essere efficace deve essere pensato in un certo modo e se fosse stato pensato in quel modo sarebbe stato più efficace. Non ho voluto fare un attacco alla Regione, anche se peraltro, visto che loro stanno strumentalizzando la situazione di Cortatone di quest'estate, forse è il caso che si informino, perché il decreto Minniti all'articolo 11,2 prevede che per quelle situazioni ci sia a farsi carico delle fragilità sia non solo l'ente locale, ma in primis la Regione. E allora adesso la Regione ci sta dando una mano perché l'abbiamo convocata su questo e ci stiamo collaborando, ma lì per lì la Regione non si è vista, entra il Comune, il delegato dell'assessora, stava lì giorno e notte. Allora, al di là di questa piccola polemica, io sono perplessa perché vedo che stanno producendo i colleghi del PD molte delibere e sono contenta per questo. È strano che non lo abbiano fatto negli anni in cui hanno governato. Allora noi per rimettere a posto la vacanza di regolamenti e la vacanza di normative su come gestire una città così complessa, noi stiamo lavorando e stiamo lavorando molto e vorrei veramente tranquillizzare le colleghe che nei prossimi mesi delibere sul sociale per quanto riguarda questa amministrazione ne vedrete un bel po', ma dettagliate, non così. Grazie.